Si è parlato anche della vicenda del Palachiarbola stamani nel corso di una conferenza stampa promossa dal Partito Democratico. Secondo i consiglieri comunali Laura Famulari, Luca Salvati e Giovanni Barbo, la vicenda della struttura rischia di aggiungersi ad altre grandi irrisolte della giunta comunale per quel che concerne le opere pubbliche, la piscina terapeutica e l'area ex fiera su tutte. I tre esponenti del PD hanno sottolineato come fra l'altro l'impegno dei tecnici del Comune per quel che concerne la cabinovia di fatto ne distolga il lavoro su altri fronti, ma in realtà è un altro il problema. Noi riteniamo che la politica, che chi ha un incarico di amministrare la città debba rispondere alle opposizioni e soprattutto ai cittadini che sono rappresentati da chi viene eletto in consiglio comunale. La giunta spiega a Barbo di fatto lascia in evase le richieste dell'opposizione che in alcuni casi riceve tardi le risposte o non le riceve affatto. Noi chiediamo che la parte politica, quindi il sindaco e gli assessori si prendano la responsabilità di dire perché sono ferme alcune opere, quali sono le tempistiche previste, quali sono i progetti in corso di realizzazione. Lo abbiamo fatto con i nostri strumenti che sono quelli delle emozioni, delle interrogazioni, delle domande di attualità e non abbiamo avuto risposte chiare a fronte di una situazione critica che è sotto gli occhi di tutti. In conclusione, Barbo cita anche il tram di Opicina, fra i lavori che il Comune non riesce a portare a termine e attorno ai quali Palazzo Sipario sarebbe stato troppo spesso reticente. L'elenco è davvero molto lungo e noi cerchiamo di tenere viva l'attenzione con gli strumenti che abbiamo e se la politica non risponde abbiamo il compito e il dovere di tenere alto l'interesse a tutela di tutta la cittadinanza.